...attribuirsi a banalissime disattenzioni difensive, tant'è che lo stesso Tato Sabadini al termine della gara ci è parso quanto mai rabbuiato. In svantaggio per 2-0 si è rivelata inutile il tentativo di riscossa con la rete di Zanuttig. Ormai la frittata, come purtroppo in molte altre occasioni, era fatta ed a nulla sono avvalsi i tentativi finali per riequilibrare le sorti. Domenica prossima l'Alessandria è attesa al Moccagatta per affrontare il Chievo. Inutile accennare il risultato voluto.